ben trovati a questa nuova edizione di senior news vediamo i titoli da venerdì stop alle mascherine all'aperto in tutta italia contro il covid spesi 2 miliardi di euro in farmacia quando la salute va in fumo combattere l'abitudine al tabacco ipoacusia i vantaggi per i pazienti delle protesi acustiche personalizzate via le mascherine all'aperto da venerdì 11 febbraio indipendentemente dal colore delle regioni ad anticipare il provvedimento del ministero della salute il sottosegretario andrea costa secondo cui questo è un segno di speranza per tutti gli italiani un annuncio che procede con l'andamento dell'epidemia il covid sembra infatti allentare la sua morsa accanto a questo un'iniezione di fiducia viene anche dalle vaccinazioni per fine marzo con il completamento delle terze dosi circa 12 13 milioni che ancora mancano ci saranno anche le condizioni per non prorogare lo stato di emergenza la variante omicron ha avuto per gli italiani un peso molto elevato anche dal punto di vista economico tra test antigenici mascherini e saturimetri e tutti gli altri prodotti del cosiddetto paniere anti covid nel 2021 gli italiani hanno speso in farmacia oltre 2 miliardi di euro solo nelle prime quattro settimane di gennaio per fare i tamponi rapidi dal farmacista sono stati sborsati ben 58 milioni di euro una cifra esorbitante specie se paragonata all'intero 2021 quando per i test veloci erano stati spesi 140 milioni di euro di cui la maggior parte negli ultimi mesi dell'anno fumare ormai è noto produce danni irreparabili al nostro organismo in particolare alla salute del sistema cardiovascolare ecco perché interrompere l'abitudine al tabacco è fondamentale per proteggere la nostra salute vediamo il servizio il fumo rappresenta uno dei fattori di rischio che portano all'insorgenza di malattie cardiovascolari quando le sostanze chimiche contenute nelle sigarette entrano nel nostro organismo e raggiungono il sangue danneggiano i vasi sanguigni e in particolare le arterie organi come cuore e cervello il fumo favorisce la formazione di quelle placche aterosclerotiche che possono bloccare il flusso di sangue provocare infarti o ictus non solo il fumo favorisce anche l'abbassamento del colesterolo hdl fa aumentare la frequenza cardiaca e riduce l'ossigenazione del sangue eppure smettere di fumare non è semplice perché si tratta di una vera e propria dipendenza quella fisica determinata dalla nicotina delle altre sostanze presenti nelle sigarette e quella psicologica legata alla convinzione che fumare sia un supporto per superare momenti di stress o disagio in italia esistono molti centri antifumo che forniscono supporto e consulenza a coloro che vogliono liberarsi da questa abitudine dannosa in italia ci sono oltre 7 milioni di persone con disturbi uditivi di cui uno su tre ha più di 65 anni e uno su due più di 80 il 98 per cento dei portatori di protesi acustiche dichiara migliorata la propria qualità di vita ma la nuova normativa sui nuovi lea fortunatamente ancora non applicata dalle regioni potrebbe compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie perché di fatto obbliga il fornitore a seguire il criterio della gara al massimo ribasso per la fornitura di apparecchi acustici apparecchi che invece devono essere personalizzabili dagli audioprotesisti in base ai bisogni del singolo paziente sentiamo l'apparecchio acustico è un dispositivo personalizzabile adattabile cosa intendo dire con questo intendo dire che l'apparecchio acustico da solo non funziona e dobbiamo immaginarcelo come un materiale grezzo come l'oro come il diamante come del carbone che deve essere maneggiato personalizzato dal sanitario in questo caso l'audioprotesista per adattarsi perfettamente alle esigenze del paziente ciò si riflette nella normativa ancora una volta che individua l'apparecchio acustico come dispositivo predisposto appunto grezzo per essere adattato dall'audioprotesista sia la normativa italiana lo chiama appunto predisposto sia quella europea lo chiama adaptable cioè adattabile dall'audioprotesista non esiste l'apparecchio acustico che va bene per tutti i pazienti perché l'apparecchio acustico va scelto dall'audioprotesista e adattato dall'audioprotesista sulla base come dicevo prima delle esigenze audiologiche e dextra audiologiche del paziente senior news termina qui prima di salutarvi vi ricordo pronto senior salute il servizio di senior italia federanziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il cup una visita specialistica un esame diagnostico un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dal medico nella prescrizione chiamando il numero 06 6227 4404 ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente sul sito www.signoritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni arrivederci a domani a